Ragazzi miei, ma cosa vi devo dire? Cioè, cosa vi devo dire? Allora, è uscito in America Absolute Superman numero uno, il primo numero, quindi siamo su questo canale anche a commentare il terzo capitolo di fatto di questo nuovo universo, perché abbiamo commentato Absolute Batman, abbiamo commentato insieme Absolute Wonder Woman, adesso commenteremo insieme quello di Superman e... Io l'ho letto ovviamente per fare questo video, mi viene da dire in modo estremamente sincero, ragazzi, a me, cioè per me questo è il migliore dei tre, ma proprio di dieci punti in più, poi chiaramente c'è della soggettività in questo perché si riprendono dei temi che a me stanno molto a cuore, ora vedrete di quali temi parleremo, però per me, cioè ragazzi, io sono... E questo, in realtà, l'Absolute Superman era quello che mi interessava di meno per la descrizione che c'era stata data, anche perché era quello su cui c'erano meno informazioni, ora capisco il perché, perché questa è una storia bella profonda, chiaramente ne parleremo insieme in questo video, ne parleremo insieme tra circa un mese quando uscirà il secondo numero, quindi state aggiornati, iscrivetevi al canale, mettetevi in piace e partiamo. La nostra storia, come ogni storia di Superman, deve partire da un pianeta, deve partire da Krypton. A quanto pare, questa versione di Kal-El si ricorda effettivamente di Krypton e infatti sia all'inizio, ma anche un po' alla fine, poi ne parleremo proprio sul finale, fa una descrizione di questo pianeta. Vi posso dire che anche Krypton cambia nell'Universo Absolut. Comunque, Krypton è una civiltà estremamente avanzata scientificamente, divisa in delle classi molto molto precise. Ovviamente, le classi più importanti vivono nelle grandi città, come per esempio Kandor, e in queste città c'è una classe dominante, che è la classe dei clerici, questi scienziati slash politici che utilizzano tutto il loro sapere verso la scienza per poter controllare l'energia della loro stella rossa. Di fatti il logo che individua di fatto questa classe è un sole, un sole rosso che hanno sul petto. Questi vari loghi sono molto molto importanti perché andranno a individuare le diverse classi. Comunque, loro sono una classe che derita solo esclusivamente alla ricerca e alla proiezione verso il futuro, ok? A discapito anche, possiamo dire, del pianeta. Questo è già un primo tema, che viene anticipato nel momento in cui facciamo la conoscenza di un personaggio che secondo me è molto molto importante, ovvero Lara El. Allora, la prima cosa che noi vediamo di questo personaggio è il logo che ha sul petto. Tra poco parleremo del significato di quel logo, come vi avevo anticipato, ogni logo in questa Krypton rappresenta una casta, e tra poco, ripeto, ci arriviamo. Ma per quanto riguarda questo personaggio, vediamo che cosa fa di mestiere. A quanto pare, in tutte le fattorie di Krypton non piove più da tantissimo tempo, per colpa delle ricerche sul sole che stanno facendo invece la classe dominante, che ovviamente non si ferma. Anzi, sapete perché non si ferma? Perché hanno trovato una nuova tecnologia che può indurre alle piogge. Quindi in poche parole dice, ok, c'è siccità, però basta che lavorate in questo modo. Questa tecnologia qua viene gestita appunto dalla madre di Superman, ovvero Lara El. Lara El è una donna molto molto intelligente. In passato il suo sogno era di diventare un'astronauta, pensate. Peccato che a nove anni osò criticare la gestione del budget appunto del governo di Krypton, perché stanziava troppi pochi fondi per le ricerche interplanetarie, e quindi venne bandita dalle classi superiori. Quindi in poche parole, anche se era veramente molto molto intelligente, rimase comunque nella classe più bassa. E finalmente vediamo quali sono queste famose classi. Inizialmente ne vediamo due, ma in realtà in questo numero ne vediamo ben tre. Ovviamente abbiamo quella del sole, no? Quindi la classe dominante, questi politici slash scienziati che vanno a vedere solo ed esclusivamente il progresso. Tecnicamente ci sarebbe anche la classe di mezzo, si chiama proprio classe di mezzo, che serve a gestire appunto la classe inferiore. E poi c'è l'ultima, quella appunto di Superman e dei suoi genitori, che ha come logo appunto la classica S che noi conosciamo di Superman. Perché? Perché quella classe lì è la classe degli operai, coloro che lavorano con l'acciaio. Gli uomini d'acciaio, men of steel, steel, e si finisce con questa S. Anche se c'è da dire, come ci sottolinea Clark Kent, che è Kal-El in realtà, che sta narrando questa storia, all'epoca quella S veniva considerata come una vergogna, quindi come shame dalle classi superiori, chiaramente. Però attenzione, c'è chi portava quel logo con estremo onore. Come per esempio il padre di Kal-El, Jor-El. A quanto pare è un lavoratore in alcune miniere, e anche lui era uno studente modello. Pensate che era talmente avanti con gli studi che sarebbe dovuto diventare appunto un membro della casta dominante. Peccato che proprio nel momento in cui si stava per laureare, decide anche lui di criticare Krypton, perché stava, diciamo, utilizzando troppi materiali, troppa energia, e stava distruggendo piano piano il pianeta. Aveva iniziato a prevedere anche un disastro, una vera e propria catastrofe, che avrebbe distrutto completamente tutto il loro mondo. Alla fine, ragazzi, Jor aveva ragione, perché proprio in questo numero, mentre sta lavorando nelle miniere, vediamo che alcune crepe iniziano a far fuoriuscire del gas e del liquido, di un colore verde molto molto acceso. Colore che a me personalmente ha ricordato moltissimo la kryptonite. Un colore così acceso, ma anche così pericoloso, perché vediamo che i pochi kryptoniani che toccano questo gas vengono completamente disciolti. Jor-El riuscirà comunque a scappare. Ma per il momento, se vi stavate affezionando a questa versione di Krypton, dobbiamo prenderla e metterla un attimo da parte, perché torniamo sulla Terra. In particolare, arriviamo in quello che dovrebbe essere il setting almeno iniziale di questa storia, ovvero in Brasile. Siamo in delle favelas brasiliane dove sta nevicando, però attenzione, non sta veramente nevicando. Quella è una neve cancerogena per colpa dei lavori che stanno attuando effettivamente in queste favelas. Infatti, a quanto pare, all'interno di queste favelas e in diversi altri luoghi che tra poco citeremo, è arrivata una corporation molto importante che si chiama Lazarus Corp, che utilizza come soldati dei pacemaker, letteralmente. Avete presente la serie anche che è uscita recentemente? Ecco, quelli sono dei soldati che lavorano appunto per questa azienda che si chiama Lazarus. Di cosa si occupa la Lazarus? Di prendere delle risorse appunto dall'interno del pianeta. Nel caso del Brasile, qua si va alla ricerca dei diamanti. Nonostante ci sia questo grande problema di questa neve cancerogena, comunque ovviamente i lavoratori sono costretti a tornare a lavoro dai vari pacemaker, che quando entrano nella miniera rimangono esterrefatti. Sapete perché? Perché i lavoratori trovano i vari contenitori di diamanti completamente pieni. È come se l'intero lavoro che loro avrebbero dovuto fare in diversi mesi qualcuno l'avesse fatto in una notte sola. Quindi loro si pigliano questi diamanti e se ne escono. Cosa che in realtà per loro è strana, ma avevano già sentito una roba del genere. Quanto pare in altre miniere, di altri posti nel mondo, era successa una cosa molto molto simile. Il che aveva portato anche, nell'immaginario collettivo soprattutto di questi lavoratori, a pensare che possa esistere un qualcuno o alcune persone che possano veramente fare qualcosa del genere. Questi Omega Men, ok? Comunque anche i pacemaker chiaramente iniziano a vedere questa cosa, iniziano a dire forse c'è qualcosa che non va, è successo di nuovo, era già successo negli altri stabilimenti, e iniziano a ragionare. Nel frattempo vediamo che un uomo misterioso che inizia a parlare col capo di questi lavoratori. A quanto pare questo tizio qua sembra essere straniero, e infatti, ragazzi, il brasiliano dice, guarda, io vedo che sei sempre in disparte, poi sussurri quando parli, perché non vieni con noi a festeggiare, così fai amicizia e via dicendo. Questo uomo misterioso però intanto dice che non sa come si chiama, che ancora adesso in realtà non lo sa esattamente, ancora non sa esattamente chi è. E in più non può andare con lui, perché? Perché deve lavorare. Peccato che sia notte fonda. E noi vediamo questo misterioso che si allontana nella notte, perché appunto deve lavorare. E già avrete capito probabilmente. Comunque, chiaramente, la Lazarus inizia a preoccuparsi di questa cosa, perché dice, ok, noi stiamo pagando della gente che non sta facendo il lavoro, non va bene, quindi sguinzagliano le loro forze, che iniziano a cercare risposte. E lo fanno ovviamente come dei veri villain, quindi anche picchiando effettivamente i lavoratori. Proprio in questo momento vediamo che quanto pare in una piccola casetta di queste favelas c'è una sorta di pannello solare con una voce che sembra star ricaricando appunto il nostro protagonista, perché era diventato, diciamo così, debole per colpa del poco sole che ha preso negli ultimi giorni, per colpa appunto di questa strana burrasca che è arrivata in Brasile. Chiaramente il protagonista, ragazzi, è lui, è il nostro Superman, che a quanto pare ha viaggiato per anni sulla Terra vedendo la Lazarus distruggere completamente tutto l'ambiente, vedendo la Lazarus sfruttare, stuprare quasi, mi vorrebbe da dire, l'ambiente per le risorse, cosa che lui con i suoi occhi ha già visto. Però lui ha cercato di aiutare, cosa che non ha funzionato, e anzi adesso si sta ritorcendo contro degli innocenti. E quindi per lui è il momento di smetterla, di scappare. Per la prima volta vediamo finalmente il nostro Superman. Con questo design che non è figo, di più, bellissimo. Questa armatura slash tuta in realtà è la tuta da lavoro che effettivamente usavano i kriptoniani, in particolare la classe della sua famiglia in passato. La S non sta per Superman, ma chiaramente sta per Steel, che veniva utilizzato effettivamente a Krypton, ok? Quindi, questo è il nostro Superman. Ammirate nel design, non c'è il mantello, è molto più terra-terra, e a quanto pare ha bisogno ovviamente di essere caricato dal sole. Lo vediamo anche combattere. Mentre combatte, attraverso i suoi pensieri, parla con quella che sembra essere una voce. Attenzione, non è pazzo, non vi preoccupate, la solitudine non ha indotto la pazzia del nostro Kalel. Semplicemente, a quanto pare, quella voce si trova proprio all'interno di questa armatura. È come se fosse una voce di supporto in un certo senso, perché addirittura noi vediamo Kalel che domanda, ha la voce all'interno, se colpendo gli avversari li uccide oppure no. Ovviamente non li vuole uccidere, però anche qui deve imparare a utilizzare la sua forza. Questa è una storia delle origini vere e proprie, perché lui fino a questo momento era andato in giro per le varie miniere, per i vari posti di lavoro, a fare il lavoro al posto dei lavoratori. Però adesso ha detto, forse è meglio di smetterla, ed è la prima volta che effettivamente sta combattendo. Anche se ci sono stati degli altri incidenti particolari in passato. Quali sono questi incidenti? Adesso ci arriviamo, perché ovviamente Lazarus si fa trovare preparata. Ha dei droni molto molto potenti che iniziano a ferire il nostro Superman, che inizia a soffrire. E decide quindi di utilizzare un'abilità, nonostante la voce, tra l'altro scoppiamo a chiamarsi Sol, anche per riprendere un pochettino tutto il concetto del Sol e via dicendo, dice di non farlo, perché ancora non è in grado di controllare quel potere. Eppure Kal-El decide comunque di sprigionarlo. E noi vediamo questa grandissima esplosione. Non solo dagli occhi, eh, ma da tutte le parti del corpo. Quindi tutti quelli che sono intorno a lui, tutti i cattivi che sono intorno a Superman, credo che muoiono in questo caso, perché veramente l'esplosione è pazzesca. E addirittura, questa è una cosa particolare che secondo me dovrà essere analizzata in futuro, lui chiede a Sol di spegnerlo. E' come se questi poteri fossero comunque aiutati in qualche modo dall'armatura. Magari non è che l'armatura gli dà i poteri, ma semplicemente l'armatura aiuta a gestire l'energia solare. Mi viene da ipotizzare una roba del genere. Quindi in poche parole, ragazzi, lui si fa spegnere, addirittura sentiamo la voce di Sol che dice, per favore, fai quello che ti dico, ovvero, lascia perdere questa gente, tornatene nelle ombre, perché tanto tu dovresti aver imparato la lezione, la grande e ultima lezione di Krypton, ovvero che certi pianeti non possono essere salvati. Poche parole, Kal-El sta provando a risolvere quello che lui non ha potuto risolvere a Krypton, perché era semplicemente troppo piccolo. Comunque, vediamo che arriva l'esercito da Lazarus e in particolare vediamo un agente che ammanetta il nostro Superman e questo agente, ragazzi, sapete chi è? È Lois Lane, agente Lane, che arriva, ammanetta Superman e se lo porta via. E qua abbiamo una cosa particolare che in realtà abbiamo già visto anche in Absolute Batman con Alfred, no? Quindi con questi personaggi che almeno inizialmente sembrano essere, mi viene da dire, degli avversari, non dei villain, degli avversari, poi secondo me si cambierà anche un pochettino coi prossimi numeri che vanno contro l'eroe principale, eh? Per quanto riguarda Batman abbiamo avuto Alfred, per quanto riguarda Superman adesso abbiamo Lois, ma Lois si vede per mezza vignetta proprio, quindi non vi posso dire altro perché semplicemente il numero sembra finire qui, ma non proprio, perché ci concentriamo su altre due piccole cose, perché vediamo chiaramente il quartier generale della Lazarus e vediamo anche quello che sembra essere il CEO, e ragazzi, è Brainiac, Brainiac si trova nel Nevada, in questo universo, in una base sotterranea della Lazarus, è chiaramente lui per il design, lo capiamo non solo dal design, ma anche perché vediamo proprio i classici tank con le varie città, i vari luoghi che ha rapito, e si riferisce a Superman, di fatto, che tra l'altro questo nome gli viene dato proprio da Lane in questo universo, come un nuovo giocattolo e si chiede effettivamente da dove provenga, quindi sì, abbiamo anche questa introduzione qua, a quanto pare la Lazarus non ha niente a che vedere con l'ex Luthor, che secondo me qualche apparizione farà prima o poi, fidatevi, ma riguarda Brainiac, ora, c'è da capire se sarà un alieno oppure no, c'è da dire che una parte interessante, importante di Brainiac è proprio l'aver una città kriptoniana proprio nella sua collezione, vediamo se le due cose si collegheranno, comunque c'è ancora un'ultima cosa che dobbiamo vedere, proprio la parte finale in cui ci fa vedere anche il nostro Kal-El da bambino che vive insieme ai suoi genitori, Jor e Lara, che si preoccupavano perché effettivamente Jor ha visto quello che è successo nelle miniere e pensava che Kal-El fosse morto, comunque fosse in pericolo, tra l'altro con lui c'è anche un cane bianco, chiaramente sarà Krypton o qualcosa del genere, non credo che sia arrivato con lui sulla terra ma proprio mentre si abbracciano vediamo che dal terreno di Krypton inizia a uscire appunto del gas verde, lo stesso delle miniere, quindi Krypton probabilmente non finirà per un qualche strano disastro legato al sole ma proprio perché semplicemente hanno cercato, hanno utilizzato, hanno sfruttato troppo il pianeta. Come vedete ci sono dei temi chiarissimi, temi di classe, temi che hanno a che fare con lo sfruttamento dell'ambiente, grandi aziende, grandi corporation, tante cose interessanti che bene o male erano già state citate in Absolute Batman. Io ho amato questo numero onestamente, poi so che quando c'è una nuova storia c'è sempre un po' di si va sempre sul chi va là perché ovviamente si parla di un personaggio molto molto vecchio che viene reinterpretato in questa maniera per me per me funziona alla grande ragazzi poi ve l'ho detto questi temi un po' sono un po' legato per certe cose ovviamente voglio sapere anche la vostra sotto nei commenti ricordatevi che noi comunque ne parleremo ancora con i prossimi numeri vi lascio Absolute Batman e Absolute Wonder Woman da recuperare se non l'avete fatto e ci vediamo presto ciao ragazzi grazie a tutti